Bombe ragazzacci! Come andiamo? Tutto bene? So già che avrete letto, leggendo il titolo di questo video vi sarete chiesti ma qual è l'utilità di questo video? E la risposta è... Nessuna! Semplicemente volevo farlo. Voglio semplicemente mettermi alla prova sempre di più, lanciarmi in cose sempre più assurde, anzi a proposito, se avete idee in merito per cose veramente dal limite dell'assurde, scrivetemi, tanto io sono sempre comunque bene accetto a sfide e cose strambe. Una di queste è sicuramente suonare un pezzo del mitico, dell'unico, il solo, il maestro, Mr. Inguim Malmsteen più veloce, cioè oggettivamente parlando, pensare di suonare un suo brano ancora più veloce e vedere quanto si può andare più in là è già da pazzi, me ne rendo conto eh, però sono uno di quei fuori di testa che si rende conto di esserlo. Il brano in questione ragazzi comunque sarà una piccola parte di Trilogy Suite e oggi vedrò di portarlo al limite, vediamo un po' fino a che non mi andranno a fuoco le mani probabilmente, vediamo che cosa succede. Partiamo con un, come giusto che sia, con un 100%, quindi andiamo dritti subito al sodo e vediamo di spaccare sto pezzo. Grazie a tutti. 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 Siamo a 100% al 120%, ufficialmente. Non so come andrà a finire, però io ce la metterò tutta. Non conto troppo sulla precisione ovviamente, ma è già tanto se arrivo fino in fondo, ecco. Io intanto, e io intanto prego, ecco, 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 ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al 125%. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La usiamo ancora di più. Proviamo l'ultimissimo, poi direi che c'è fine proprio, basta, io sono concluso. Andiamo a un 130. Vediamo che cosa succede, se arrivo fino in fondo sono il king. Grazie a tutti. Non mi sento più le mani, sto veramente malissimo. Però sono contento, sono contento perché in fondo è andata meglio di quanto mi aspettassi. Probabilmente avrò per sempre perso l'utilizzo delle mani, però fa lo stesso, ne è valsa la pena. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, fate vedere questo video a tutti i vostri amici, parenti, compare e quant'altro. E noi ci vediamo al prossimo video. Pronti? Pronti? Soldi! Esatto. Dai, ce la puoi fare!